Buongiorno a tutti, io sono Luca, sono un venditore della Bonometti Centro Caravan, lavoro qui da dieci anni e oggi siamo qui al primo piano per farvi vedere uno dei tantissimi camper esposti. Vi presento l'Harmony Line, è un modello di Bustner presentato in fiera a Stoccarda a gennaio, è una rivisitazione del Privilege 728G, semi-integrale col doppio pavimento e già tutto compreso, quindi lo vedete con la cabina grigia, i cerchi in lega da 16, le finestre incorniciate con una sottilissima cornice, le Polyvision, le più belle che ci possano essere, si prosegue con il posteriore, molto bello, i fascioni delle luci in verticali, la retrocamera di serie Dometic e il bellissimo terzo stop incorniciato dentro la scritta Bustner. Passiamo al lato sinistro, al lato conducente e vediamo subito un garage spaziosissimo, generoso, dove ci sono già i corriocchielli per fissare le moto, le biciclette e c'è spazio anche in parete verso la guida per poter mettere ruota di scorta o tutto quello che vi serve. Ci sono tre chiusure e poi si passa al vano delle bombole, molto comodo, ci stanno due bombole del gas, il ripiano è in alluminio, quindi molto facile da pulire, non si ossida, non si sporca né niente e ha già lo scambiatore delle bombole, quindi ci sono già praticamente due tubi del gas allacciati alle bombole. La stufa, il camino della stufa in posizione centrale, quindi tutto il riscaldamento è centrale, viaggia in tutto il camper in maniera uniforme e subito dopo la power unit di Bustner. La power unit cos'è? È tutto quello che riguardano i servizi di Bustner in un unico posto, quindi il serbatoio delle acque bianche, la pulizia, il rabbocco, la presa della corrente 220 dove c'è poi la possibilità di fare uscire il cavo, lo scarico delle acque bianche e lo scarico del boiler. Ovviamente poi si passa alla cabina Fiat, quindi colorazione grigia per tutti gli armoni e eventualmente può cambiare il colore nella colorazione color oro bianco nell'Iseo Privilege. Passiamo alla parte destra, lato passeggero, si vedono subito cosa? Soprattutto le congiunzioni tra cupolino e scocca e cabina che sono pressoché perfette, sigillature perfette, senza sbavature, tipico di un marchio tedesco come Bustner. E si arriva alla porta, bellissima porta di entrata, larga, un XXL con maniglione, chiusura centralizzata, pattumiera e la zanzariera integrata. Ovviamente avendo il doppio pavimento c'è un gradino elettrico esterno, si sale, c'è il gradino interno e poi si accede al camper. Siamo nell'armoni, l'armoni si contraddistingue dagli altri veicoli della Bustner per l'armonia che c'è all'interno del veicolo. Il tavolo con l'effetto seta, le tappezzerie in pelle, chiara, luminosa, tutto il camper è luminoso con questa parte di bagno un po' più scura, quindi fa l'effetto chiaro-scuro, tutti i mobili, i pensili sopra molto chiari, laccati bianco e estremamente luminoso, assolutamente luminoso con tutto il gioco di LED che c'è all'interno del camper. Camper molto spazioso, grandissima dinette, bagno molto comodo, bagno con doccia separata completamente. Davanti c'è la cucina ad L con molti cassetti, tutti i LED della zona giorno e della cucina e anche in camera si possono spostare. Si arriva poi al frigo, molto grande, capiente, di ultima generazione. Zona notte comodissima, ci sono due gradini, uno armadio, si può estrarre, si possono meriporre degli oggetti tipo scarpe o quello che si vuole dentro ai gradini, i due armadi, uno armadio veramente e l'altro proprio cassettone e poi tutti i pensili sopra. L'Iseo 728 Harmony, come tutta la serie Liseo semi-integrale, hanno logicamente il doppio pavimento, quindi doppio pavimento con aria calda e questi due vani ce ne sono due, uno qua e uno un po' più indietro che vani di stivaggio, sono vani di stivaggio. L'Armony in zona meccanica presenta di serie l'autoradio Pioneer con la retrocamera di serie, tutti i plissettati di serie, i letti basculanti dei Liseo sono comodissimi ed è un bel letto. Bene, terminiamo qui la presentazione del Bustner Line Harmony. Io sono Luca, vi ho presentato questo camper e se venite qui da noi ve ne presenterò molti altri. Grazie.